Buongiorno Friuli e buon lunedì. Noi siamo pronti anche oggi per iniziare questa giornata, questa settimana, questa nostra diretta dedicata alla lettura dei quotidiani di oggi, partendo però da una bella immagine di una delle webcam collocate sul territorio della nostra regione. Siamo a Forni, i forni di sopra, ecco l'immagine che ci arriva in questo momento da Forni di sopra dove c'è un po' di neve, lo vediamo sulla strada. In questo momento a Forni ci sono meno 8 decimi di grado ed ecco la bella immagine, vediamo ancora, siamo quasi in piena notte ma ci sono le luci artificiali che illuminano il centro del paese. Ancora qualche temperatura rimanendo in montagna, vediamo meno 4 gradi e 6 decimi sul Monte Lussari, meno 4 gradi e 9 decimi sul Piancavallo. Siamo sotto zero anche a Pordenone, meno 0,7 gradi, ci dice lo Smerarpa. A Udine un grado positivo, a Gorizia 0,3 gradi positivi, fa più caldo invece sulla costa. A Trieste ci sono 7 gradi e 3 decimi, la giornata di oggi proseguirà all'insegna di un cielo in genere poco nuvoloso in serata e nella notte possibili foschie o nebbie. Oggi le temperature massime raggiungeranno gli 11-13 gradi. Questo come sempre un primo sguardo alle previsioni del tempo, poi nel corso della nostra diretta come sempre sentiremo anche gli esperti dell'Osmerarpa in diretta per sentire assieme tutte le previsioni aggiornate anche per i prossimi giorni. Un flash veloce, un aggiornamento veloce anche sulla viabilità. Il sito infotraffico di Autovie Venete, eccolo, al momento non ci segnala code o incidenti particolari, vediamo i cantieri per i lavori in corso che ormai ben conosciamo. E allora iniziamo adesso la nostra rassegna stampa, iniziamo come sempre dalle pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo l'apertura del Corriere della Sera. L'Europa vota Milano sul filo. Si vota per la nuova sede dell'Agenzia del Farmaco che potrebbe essere appunto Milano. Ecco il titolo di apertura del Corriere. In gara le città del Nord, il Jolly Barcellona, Bratislava spinta da Berlino e spunta anche Lille. La nuova sede dell'EMA, primo turno decisivo per l'Italia, i ritiri dell'ultima ora. E poi vediamo l'articolo, l'inizio dell'articolo. Oggi si decide, l'Europa voterà sulla città che ospiterà l'Agenzia del Farmaco. Ci sarà un complicato sistema di voti e ballottaggi segreti introdotto per la prima volta. Una storia di conclave per il Consiglio dei Ministri degli Affari Generali. Milano è lì e ha buone possibilità di aggiudicarsi la prestigiosa sede. Decisivo sarà il primo turno ma la Germania spinge per Bratislava. Intanto in Germania Angela Merkel fa fatica a formare il nuovo governo. Fallisce la trattativa Merkel dal presidente. Salta il tavolo per la formazione del nuovo governo tedesco. Il partito liberale lascia perché nelle parole del leader Christian Lindner manca la fiducia. Meglio non governare che governare male. Per la cancelliera l'incubo di nuove elezioni. Con la politica veniamo in Italia. Bersani dice no al partito democratico. Appello di Pisapia. E a Ostia i 5 Stelle vincono sul centrodestra. Ancora andiamo a vedere velocemente anche qualche altra notizia sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo nel taglio basso dove troviamo la notizia della scomparsa del generale di Rigopiano. Lo ricorderete la tragedia di Rigopiano nell'albergo che è stato travolto da una valanga causando diverse vittime. Storia del generale suicida per Rigopiano. Nella lettera d'addio di Guido Conti, 58 anni, il macigno dentro per le vittime dell'hotel. L'uomo era stato anche comandante provinciale della forestale a Pescara. Nella sua lettera d'addio ha scritto da quando è successa la tragedia di Rigopiano la mia vita è cambiata. Quelle vittime mi pesano come un macigno perché tra i tanti atti ci sono prescrizioni a mia firma. E poi ancora altre due notizie nel taglio basso del Corriere della Sera. Omicidio stradale in 35 sono in cella. Questo il bilancio a un anno e mezzo dall'approvazione della legge che ha introdotto l'omicidio stradale. E poi i dati sui giovani che restano a casa con i genitori per la prima volta da 8 anni sono in calo. Per la prima volta dal 2009 ad oggi diminuiscono e passano dal 67,3% al 66% dello scorso anno. Sono i giovani fra i 18 e i 34 anni che restano in casa con i genitori. Continuiamo con la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo su Repubblica e vediamo che in apertura c'è la politica. No di Bersani al PD si tratta dopo il voto. Sinistra divisa, ecco tutti i seggi a rischio. Renzi punta al 30% nei collegi e dice così fermiamo la destra. Ostia alle urne su 1 su 3, vittoria ai 5 stelle. Con la fotonotizia a centro pagina su Repubblica andiamo in Zimbabwe, Mugabe e gli altri, quei leader immortali che lasciano l'Africa senza democrazia. Il presidente dello Zimbabwe resiste a proteste e soldati. Vediamo questa foto con il presidente Mugabe che si è presentato in tv. Ecco ancora la fotonotizia. Ancora qualche apertura di qualche quotidiano nazionale. Siamo sulla stampa e vediamo che in apertura c'è questo titolo Certezze giuridiche per le banche, governo e abissi alla super procura. Il vicepresidente del CSM dice, anzi scusate, Antonio Patuelli, si dice d'accordo appunto con il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini che aveva proposto di istituire una procura, una super procura che indaghi sulle banche. Ecco ancora il titolo. A centro pagina invece una foto per raccontare un'inchiesta della stampa, il flagello dei predoni delle campagne. Da nord a sud boom di furti, le mani della criminalità organizzata sull'agricoltura. Danni per 300 milioni l'anno. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del giornale. Pensioni, il piano Berlusconi, una risorsa per l'Italia. Il cavaliere, minime a mille euro, più cure agli anziani, aiuti alle casalinghe e un ministro per la terza età. Le proposte di Berlusconi a Ostia vince il Movimento 5 Stelle. A stensione, sciocco, appena uno su tre è andato a votare, come abbiamo letto negli altri quotidiani. Siamo su libero il titolo. Tutto quasi come venti anni fa, dittatura dei pannoloni. Per salvare la sinistra rispunta Prodi nel ruolo di parroco. D'Alema e Bersani al solito rompono e la CGL sciopera. Il CAV si sente risorto, seguita a promettere e a litigare con la Lega. Intanto il PIL è quello del 2000 e i redditi sono fermi al 1998. Questa l'analisi di Libero. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura. Ora i candidati cercano i boss, ecco come aggirano l'antimafia. Il procuratore di Catanzaro, Gratteri, dice che i referenti politici dei clan ormai sono incensurati. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano. Vediamo un flash sul titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per chiudere questa parentesi dedicata ai quotidiani nazionali. L'affitto supera il 2% al test di rendimento. Tre fattori di rischio, inquilini morosi, periodi sfitti e tasse. Ecco il modello completo per calcolare la performance effettiva delle locazioni. Dare in affitto un'abitazione acquistata ora può rendere circa il 2% netto all'anno. Questa è l'analisi del Sole 24 Ore. Chiudiamo questa prima pagina. Chiudiamo la parentesi dedicata ai quotidiani nazionali. E vediamo adesso come aprono oggi i locali. Messaggero Veneto piccolo e Gazzettino. Questo è il Messaggero Veneto di Udine. Oltre 3.800 dicono addio al Friuli. L'emigrazione rallenta ma continua l'identikit dei giovani che se ne vanno. E allora andiamo nelle pagine interne dove troviamo tutti i numeri dell'emigrazione regionale. Ecco ancora il titolo. Regione unica in Italia a registrare un calo di residenti all'estero. Questo secondo il rapporto della Fondazione Migrantes. In questo box abbiamo tutti i numeri divisi per provincia e anche per classe d'età. Ecco bene tutti i numeri. La popolazione residente iscritta all'AIR è pari a 176.482. Anzi scusate, i dati della popolazione residente sono 1.217.872. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero sono 176.483 pari al 14,5%. E poi appunto tutti i dati che si possono analizzare nel dettaglio anche per quanto riguarda i paesi in cui risiedono questi nostri corregionali appunto residenti all'estero. Ancora andiamo a vedere le altre notizie sulla prima pagina. Andiamo nel taglio alto dove troviamo le notizie sportive. Udinese scatta l'allarme rosso, K.O. è in casa col Cagliari, i tifosi infuriati del Neri nel Mirino. Spunta l'ipotesi Zenga, scrive il messaggero Veneto. Domenica nera anche per la GSA che ieri ha perso contro Iesi. GSA battuta, si interrompe la lunga serie positiva. Poi ne parleremo nel corso della nostra rassegna stampa. Andiamo a centropagina adesso, vediamo questa bella foto del Lussari innevato. Vediamo anche alcuni sciatori pronti per la discesa. Corsa contro il tempo per la stagione bianca. Si punta a un'apertura anticipata degli impianti. Ieri la stagione invernale dei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia è stata presentata proprio alla Dacia Arena. Una regione al lavoro per inaugurare buona parte degli impianti il primo dicembre. Bolzonello ha detto stanziati 30 milioni per gli alberghi. Adesso tocca alle strade. E vediamo anche una foto di gruppo al termine della presentazione della stagione ieri all'auditorium dello stadio. Vediamo anche qualche novità per quanto riguarda i prezzi per gli adulti. Lo ski pass stagionale viene 500 euro, 425 per chi lo acquista prima del 3 dicembre. Mentre vediamo anche le immagini della conferenza stampa di ieri alla Dacia Arena con il presidente Soldati, il vicepresidente della regione Bolzonello e anche i vertici di Promoturismo FWG. E poi appunto come avevamo detto anche nel corso dei nostri TG in settimana in questa stagione si punta molto sulle famiglie. Quindi sono previsti degli sconti particolari per le famiglie. Sconto del 35% per chi si presenta con le famiglie e quindi anche con tanti bimbi come appunto abbiamo visto in queste immagini sulle piste da sci. Ed ecco ancora la doppia pagina sul Messaggero Veneto di oggi. Il top per lo sci dallo Zoncolan a Piancavallo. Il Friuli offre agli sportivi 89 chilometri di piste e a Tarvisio è di nuovo in arrivo la nazionale. Torniamo sulla prima pagina e andiamo a vedere anche le altre notizie di cronaca. Purtroppo tragedia sfiorata nella zona del Codroipese, bambina azzannata da un pastore tedesco. Ecco il titolo in prima pagina e poi abbiamo l'articolo nelle pagine interne che ci racconta appunto i particolari di questa vicenda. Doveva essere una tranquilla serata da trascorrere a Codroipo a casa di amici e invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Una bambina di dieci anni è stata morsa al volto e a un braccio da un pastore tedesco. E poi ancora scendendo sempre di spalla ancora cronaca il mondo della musica in lutto per il suo guru. Andiamo subito sulle pagine interne e vediamo appunto la notizia della scomparsa di Roberto De Battisti, grande esperto di musica, anima della Moffert. Il mondo della musica piange De Battisti, morto venerdì in casa, commesso storico dell'ex Moffert, era diventato il guru del settore alternativo friulano. E poi ancora, sempre sulla prima pagina del messaggero Veneto, vediamo ancora delle novità per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza. Il trucco dei VIP, scrive il messaggero, per mettere in salvo i beni, proprietà trasferite e immobili donati. Trasferimenti di quote, di proprietà, ma anche donazioni di immobili, tutte quasi fuori tempo massimo, quando l'inchiesta era già cominciata e i magistrati avevano già disposto perquisizioni e sequestri. Così come rivelato dal Corriere della Sera, gli ex vertici della Banca hanno tentato di salvare il salvabile. Ancora andiamo nel taglio basso del messaggero Veneto, Comune di Udine e identità alias, quando l'impiegato vuole cambiare sesso dopo la regione, anche il Comune di Udine, primo in Friuli Venezia Giulia, riconosce la possibilità per i dipendenti e le dipendenti transgenere che non hanno ancora completato l'iter di transizione, di usare un nome corrispondente all'identità di genere della persona richiedente, diverso da quello attribuito nell'atto di nascita, ovvero l'identità alias. Ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo di Udine, del messaggero Veneto. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia, richiamata in prima pagina, la fortezza dove non arrivò il nemico, si parla delle lezioni di storia, che anche ieri hanno richiamato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, decine e decine di persone, la fortezza è quella di Palmanova. Palmanova tra l'altro ieri al centro di un fatto di cronaca, ieri si correva la mezza maratona, con partenza proprio da Palmanova, e purtroppo uno degli atleti in corsa è deceduto durante il percorso. Malore mortale mentre corre la tragedia durante la mezza maratona, vittima un atleta sloveno di 43 anni. Ecco, il titolo a nulla sono valsi i soccorsi immediati dei sanitari. Per questo atleta di 43 anni non c'è stato nulla da fare. Alla manifestazione, scrive ancora il messaggero, hanno partecipato oltre 2.600 runners di tre paesi. Chiudiamo il messaggero Veneto di Udine, andiamo su quello di Pordenone, andiamo a vedere subito assieme la pagina principale, la prima pagina del fascicolo di Pordenone del messaggero Veneto. Il vescovo dice no ai profughi nelle strutture della chiesa. Monsignor Pellegrin ha detto le parrocchie non hanno spazio ma daremo una mano. Un patto a tre con comune e prefetto si cerca un capannone fuori città per ospitare i migranti presenti a Pordenone, i richiedenti asilo. Richiudiamo il messaggero Veneto e andiamo adesso sulla prima pagina del gazzettino, gazzettino che apre proprio parlando dei migranti profughi dalla marcia al caos. Siamo in Veneto, altri 50 vogliono tornare a Cona, si stava meglio, il prefetto ha detto fuori di qui, paradisi non ce ne sono. Sinistra alla carica, la base militare va chiusa, giovedì delegazione di parlamentari in visita. Questo accade appunto in Veneto e poi vediamo sempre sulla prima pagina del gazzettino per quanto riguarda lo sport, fine dei giochi, Tavecchio verso l'addio. Oggi potrebbero esserci delle novità proprio su questo fronte. Ma andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato al Friuli, così vediamo i titoli locali. Decolla l'elisoccorso notturno, quasi conclusi i lavori per l'elis superficie temporanea alla base di Campo Formido, servizio al debutto a gennaio. È stato necessario attendere il via libera dello Stato Maggiore. L'assessore assicura che il cantiere si chiuderà entro il mese. Se il 2017 si chiuderà con i consueti e tradizionali fuochi d'artificio, il 2018 si aprirà con il primo volo dell'elisoccorso notturno regionale, scrive il gazzettino. E poi ancora, sempre sulla prima del gazzettino, oltre 100.000 pasti alla mensa dei poveri. Il comune di Udine vara la convenzione con la Caritas. Al ricovero invernale, 1.400 persone in due anni. E poi vediamo anche sul gazzettino identità alias per i dipendenti di Palazzo D'Aronco. A centropagina lo sport flop dell'Udinese vince il Cagliari. L'Udinese ci ricasca, scrive il gazzettino. Dopo la sosta cade in casa di fronte al Cagliari. Andiamo di spalla, si parla di Teleton. Tutto pronto per la staffetta solidale. In programma sabato 2 e domenica 3 dicembre. E poi sempre per quanto riguarda il calcio, calcio direttanti in questo caso il Lumignacco, sorpassato dal Chions. Tra poco parleremo appunto anche di calcio direttanti nel nostro approfondimento di Buongiorno Friuli del lunedì. La cronaca bimba zannata al volto da un pastore tedesco. Ecco il titolo sulla prima pagina del gazzettino. non è in pericolo di vita, ci sottolinea il gazzettino, ma è stata sottoposta a un intervento chirurgico. E poi un particolare, l'animale un mese fa aveva morsicato anche la proprietaria. E proprio per questo era stato un periodo sotto osservazione. Ancora, vediamo anche sul gazzettino, Palmanova, Maratoneta, Sloveno, muore durante la gara. Si chiamava Slamic Mian e abitava a Nova Gorizia. Vediamo anche sul gazzettino l'apertura della stagione sciistica all'8 dicembre. Stagione sciistica, piste aperte dall'8 dicembre. Andiamo adesso sul piccolo, il piccolo di Gorizia e Trieste. Vediamo subito l'apertura, il maxisconto agli inquilini Ater. Fondi contro il caro affitti nella manovra regionale. 8.000 beneficiari, scrive il piccolo. E vediamo nelle primissime pagine di questo quotidiano l'articolo con tutte le novità su questo maxisconto sui canoni Ater per 8.000 inquilini single con redditi sotto i 20.000 euro. Inserite in finanziaria risorse per contenere i rincari legati all'introduzione dell'Isee. A beneficiarne un quarto degli assegnatari complessivi, metà dei quali vive a Trieste. Lo stanziamento ad hoc a bilancio consentirà di rendere strutturale l'intervento a carattere eccezionale varato nel 2017. E poi vediamo anche quest'altro articolo che fa il punto sulla manovra di bilancio. La grande corsa alle poste puntuali, scrive il piccolo. L'ultimo atto della legislatura potrebbe ingolosire gli eletti e far lievitare gli emendamenti a beneficio di realtà amiche. Ecco ancora il titolo. Ma torniamo in prima pagina adesso così andiamo a vedere ancora qualche notizia che ci arriva da Trieste. Si parla del cantiere di via Carducci che devia i bus e cancella i park. La seconda fase dei lavori in una delle strade centrali di Trieste. Non bastavano i disagi provocati da New Jersey e rotatorie. Con la seconda tranche di lavori prevista nella prima settimana di dicembre, i frequentatori abituali della zona di via Carducci dovranno fare i conti anche con corsie di marcia di mezzate, parcheggi eliminati e percorsi dei bus letteralmente rivoluzionati. Da Trieste ci spostiamo nell'Isontino e andiamo a vedere la prima pagina del piccolo di Gorizia e Monfalcone. Il titolo di apertura è lo stesso. La fotonotizia ci porta invece a Romance, all'antica fiera di Santa Elisabetta di Romance. Il tacchino di 26,7 kg trionfa all'antica fiera. Ecco la foto con il tacchino vincitore della fiera di Santa Elisabetta, una fiera storica dell'Isontino. Andiamo a vedere adesso le prime di Gorizia e Monfalcone. Eccole, nel tunnel accampamento arrivati Materassi e se pare il braccio di ferro sulla vicenda di Galleria Bombi. Sale lo scontro politico mentre i richiedenti asilo durante la notte cercano anche con l'ingegno di contrastare il freddo e il vento. Nei giorni scorsi, sabato in particolare, era stato disposto un trasferimento di un centinaio di migranti da Gorizia verso altre regioni d'Italia, un alleggerimento per quanto riguarda il capoluogo Isontino, ma non è bastato per eliminare la presenza dei migranti in Galleria Bombi. Vediamo l'articolo in prima pagina sul fascicolo di Gorizia del piccolo. Andiamo anche nel Monfalconese. Nuove paghe tagliate del 30% agli operai di una delle ditte in appalto di fincantieri. Lavoratori stranieri specializzati si rivolgono al sindacato della CGL. In due mesi hanno ricevuto mille euro in meno. Questa è la situazione nel Monfalconese. Chiudiamo questa pagina del piccolo, ritorniamo un attimo in prima per andare a leggere nel taglio alto una notizia sportiva che ci arriva appunto da Trieste. In questo caso parliamo dell'Alma, parliamo di basket serie A2. 8 vittorie su 8, l'Alma batte Mantova e si gode il primato. Una notizia questa che ci permette di dare l'assist ai colleghi dello sport che tra poco, come ogni lunedì, si concentreranno appunto sulle notizie sportive di oggi. Adesso noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Prima però andiamo a vedere con l'aiuto della regia il box che ci riassume gli appuntamenti di oggi su Udinese TV. Ecco la grafica, come ogni lunedì alle 21. L'appuntamento in diretta è con il Tonight, il talk show bianconero del lunedì sera condotto da Giorgia Bortolossi con tanti, tanti ospiti. Adesso un po' di pubblicità e poi la rassegna stampa sportiva. Rimanete con noi.